Sorpreso a pescare datteri di mare a Biceglie. I carabinieri hanno denunciato in stato di libertà la procura della Repubblica di Trani, un 27enne di Molfetta, sorpreso a pescare datteri di mare. L'operazione è stata portata a termine dopo una segnalazione telefonica al numero d'emergenza del 112, con la quale un bagnante aveva comunicato ai carabinieri un'attività sospetta e forti rumori di martellamento proveniente dai fondali adiacenti alla località Torretta sul lungomare Paternostro. Prontamente una gazzella dei carabinieri è giunta sul posto, fermando il 27enne, noto alle forze dell'ordine, ancora in muta da sub, intento con mazzette e pinza a frantumare gli scogli alla ricerca dei pregiati molluschi, di cui la pesca è proibita dalla legge. Nel corso dell'attività immunitaria hanno sequestrato un'intera attrezzatura per immersione subacquea, composta da muta, erogatore, bombole, maschere, pinne zavorre, nonché arnesi utilizzati per la frantumazione delle rocce ed 8 kg di datteri appena estratti e riposti nel bauletto di un ciclomotore. Il pescato è stato distrutto e rigettato in mare, mentre il 27enne, come detto, dovrà rispondere di pesche legale e deturpamento di bellezze naturali.